Welcome to the Quantum Gravity Channel In questo video spieghiamo che cos'è l'atomo Normalmente vi si spiega che l'atomo consiste di un nucleo Il fatto di protoni e neutroni E poi una serie di elettroni che orbitano attorno Disegnando più o meno una figura come questa Questo si chiama modello planetario dell'atomo Completamente sbagliato e fuorviante Sennò non ci sarebbe bisogno di questo video Descrivere cos'è in realtà l'atomo ci permette di capire qualcosa sulla meccanica quantistica Considereremo l'atomo più semplice che è l'atomo di idrogeno Fatto di un solo protone e un solo elettrone Per comodità metteremo il nostro protone al centro E descriveremo che cosa è, diciamo così, l'elettrone Quello che diremo per l'elettrone poi varrà anche per il protone stesso Ma per il momento il protone lo ignoriamo e lo mettiamo lì al centro Senza dare ulteriori dettagli L'elettrone dov'è, cos'è, dove sta, che cosa fa Allora come sappiamo nel mondo microscopico Noi non possiamo accendere la luce Noi non possiamo guardare una particella continuativamente Quello che possiamo è chiederci, andare a vedere dove sta adesso Supponiamo di trovarla qui Posizione 1 dell'elettrone La guardiamo poi un po' dopo Supponiamo di trovarla qui Poi ancora dopo E poi un istante successivo E un istante ancora successivo E continuiamo Quando Cumuliamo un buon numero di osservazioni La cosa Più immediata da fare è unire i puntini E se uniamo i puntini Scopriamo Che otteniamo Una figura Che non ha il minimo senso Che è strano perché Se andasse bene quel modello planetario di prima In cui gli elettroni orbitavano Attorno al nucleo Unendo i puntini Noi dovremmo Vedere la traiettoria percorsa Ma non succede Quindi Ci dobbiamo chiedere perché non succede Ah, uno può dire Certo non succede Ma non succede Solo perché Le nostre osservazioni Sono troppo distanziate Una dall'altra Dobbiamo fare delle osservazioni Più vicine nel tempo Più frequenti Più dense Bene, facciamolo Cosa succede se noi facciamo Delle osservazioni Dell'elettrone Ravvicinate Nel tempo All'istante Iniziale Lo troveremo qui All'istante immediatamente successivo Qui Poi qui Poi qui Poi qui E avanti di questo passo Possiamo continuare Quanto vogliamo E poi uniamo i puntini Unendo i puntini Come prima Non troveremo niente Interessante Possiamo infittire le nostre misure Quanto vogliamo Ma non ci sarà mai Nessuna possibilità di identificare Una traiettoria E questa è la realtà Delle cose Ogni volta che noi Facciamo una misura L'elettrone Prende forma Prende posizione Letteralmente In un certo punto Tra una misura La successiva Per esempio Tra uno e due Cessa di esistere Diventa virtuale Ubiquo È ovunque E da nessuna parte Quando facciamo La seconda misura Prende forma In un punto Ma di nuovo Lo decide lui Noi non lo possiamo Prevedere Dopo che abbiamo fatto La seconda misura E tra la seconda E la terza Quando nessuno Lo sta guardando O meglio Non è in interazione Con alcun Oggetto Macroscopico L'elettrone Ritorna libero Immateriale Ubiquo È ovunque Da nessuna parte E quando poi Facciamo la terza Osservazione Lo troveremo In un certo punto Ma deciderà di nuovo Lui Dove apparire Bene Uno può chiedersi Se le cose stanno così Possiamo chiudere la fisica E non possiamo fare Nessuna predizione In realtà C'è qualcosa Che noi possiamo dire Se noi facciamo Tante misure Tante osservazioni Della posizione Dell'elettrone E rinunciamo A questa Questo esercizio Naiv Di unire i puntini Ma ci limitiamo A prendere nota Di tutte le Posizioni Che misuriamo La figura Che otteniamo L'ho preparata In precedenza È Quella che vediamo adesso Eccola qui Vedete Il protone Al centro E poi tanti puntini Cominciate a identificare Una figura Vedete che per esempio È molto più probabile Trovare I puntini In una certa Calotta sferica Di raggi Compresi Tra R1 Ed R2 Molto meno fuori Chiamiamo B Questa zona A La zona Più interna E C La zona più esterna Diciamo che La zona B Avrà Il 40% Di probabilità Di Uscire Cioè vuol dire Che se voi fate Per esempio Mille misure Della posizione Del vostro elettrone Nel 40% Dei casi 400 volte Lo troverete In quella zona Questo è qualcosa Che potete prevedere Ma se fate Una singola misura Il vostro elettrone Non sapete Dove andrà Dove apparirà Se in A Se in B O in C La cosa più Vicina Alla vita quotidiana Che ci permette Di descrivere Questo tipo Di comportamento È un sondaggio Supponete Che A, B e C Siano tre posizioni Politiche Voi fate Un sondaggio E il risultato Dice che La posizione B È condivisa Dal 40% Delle persone A questo punto Sapete Che se voi Andate in giro A chiedere La posizione politica Di mille persone Potete prevedere Che il 40% Circa 400 persone Vi diranno Posizione B Questo è qualcosa Che potete prevedere Perché avete fatto Questo sondaggio Prima Però se voi Chiedete a Una sola persona Qual è la sua Posizione politica Non siete in grado Di prevedere Che sarà A, B o C Quindi La predizione È collettiva Anche in meccanica Quantistica Voi potete Soltanto prevedere Che se fate Mille misure Il 40% Darà un certo Tipo di risultato Ma se ne fate Una sola Non lo potete Prevedere Perché In una sola Misura È l'elettrone Stesso Che Decide Quale Posizione Prendere Dove Materializzarsi E voi Non potete Né Ordinargli Che cosa fare Né Anticipare Prevedere Che cosa farà Non solo Ma se voi Fate Misure di posizione Ravvicinate Nel tempo Successive Non troverete Nessuna relazione Tra Di loro Anzi Più sono ravvicinate Nel tempo E meno Sono Relazionate Una All'altra Ecco Questa è la Meccanica Guantistica E questo Ci dice Che cosa È l'atomo Vi avevo Detto prima Che Il protone Si comporta In una maniera Totalmente Analoga Per ora L'abbiamo Messo qui Al centro Ed ignorato Ma per il protone Potremmo dire La stessa Identica cosa Anche il protone Non ha Una posizione Ben definita Soltanto Che se Se voi Lo andate A Misurare Tante volte Lo troverete Sempre In una zona Più piccola Quasi sempre In una zona Molto più piccola Di quella Dell'elettrone Cioè Se voi Immaginate Queste particelle Come delle nuvole In cui sono Smaterializzate La nuvola Nella quale Si concentra Il protone È molto Ma molto Più piccola Di quella Dell'elettrone Che Invece Come vedete Da questa figura È molto più grande Ecco Questa Cosa al centro Quindi la dovete Immaginare Come una nuvola Di puntini Che vi descrive Dove Si Troverà Il protone E Questa Grandezza Della nuvola Associata A una particella Si chiama Lunghezza D'onda Compton Ed è Semplicemente L'inverso Della massa Una particella Pesante Come Il protone Ha una lunghezza D'onda Compton Più piccola E quindi Una nuvola Più piccola Ecco perché La disegniamo Al centro Grazie Se avete Richieste Di spiegazioni Di argomenti Particolari Lasciateli Nei commenti